Il ciclo integrato dei rifiuti nella Nuova Pescara, questo il tema del convegno che si è tenuto questa mattina nella sala della provincia. Si tratta, hanno spiegato i relatori, di una delle strade maestre del processo di aggregazione messo in moto dal referendum del 2014. La fusione di Montesilvano Pescara e Spoltore in un solo comune, Nuova Pescara, oltre ad essere un'attività politica con il chiacchiericcio e le polemiche che ne derivano, è una cogente attività pratica e operativa. E questo perché l'iter della legge regionale del 2016 prevede la messa a sistema con benefici funzionali ed economici di una serie di servizi ora frazionati, costosi e anacronistici. Tra questi uno dei più importanti riguarda proprio la raccolta e la gestione dei rifiuti. Dunque è importante perché è una città che dovrebbe contare su 190-195 mila abitanti, produce attualmente circa 100 mila tonnellate di rifiuti urbani. Questa quantità deve essere concepita come una miniera urbana, cioè una potenziale risorsa da sfruttare in termini positivi, soprattutto attraverso una chiusura dei cicli di produzione e consumo, andando ad esaltare quelle che sono le attitudini della gente al riuso, al riutilizzo dei materiali, al riciclo degli stessi materiali. Nell'ottica di quella che è l'economia circolare, cioè un'economia che è in grado di rigenerarsi da sola, in cui i pochi scarti diventano le risorse per un altro soggetto. Io ho parlato oggi, insomma, delle potenzialità che ci sarebbero attraverso un studio delle zone produttive, attraverso l'attuazione della simbiosi industriale, cioè gli scarti in un'industria diventano la materia prima di un'industria, attraverso la realizzazione di aree produttive ecologicamente attrezzate, attraverso un'infrastrutturazione del territorio con impianti funzionali alla chiusura del ciclo. Nuova Pescara quindi non è solo una sfida istituzionale per questo territorio, ma direi per l'Abruzzo, ma è anche una grande sfida ambientale.